Adesso ci spostiamo su un'altra isola interessantissima con un esempio pratico di una nuova tecnologia possiamo chiamare così, emergente, che ha un fascino interessante, ovvero parliamo dei processori RISC-V. Processori RISC-V che sono introdotti oggi dal dottor Gregori. Il dottor Gregori è SAIF Scientific Officer di E4Company. E4Company è una bellissima realtà, fa parte della fondazione RISC-V International è una fantastica realtà che produce, studia e crea soluzioni basate su tecnologie RISC-V. Ma soprattutto RISC-V è molto interessante perché rilascia un'implementazione del suo standard in modalità aperta ovvero in modalità open source. Il dottor Nelline Gregori oltretutto nelle sue esperienze professionali ha lavorato con il CERN di Ginevra e ha diverse pubblicazioni. Quindi a questo punto lascerei a lui la parola. Qua c'è il produttore. Il laser. Avanti, indietro. Laser. Perfetto. Per prima cosa permettetemi di ringraziare l'associazione Free Circle che mi ha dato l'opportunità di essere qua oggi e di conoscere queste persone che ci mettono una grande passione e anche una volontà civica di organizzare questo evento che è veramente incommiabile da questo punto di vista. Adesso lasciatemi che mi presenti. Io sono Daniele Gregori, di formazione sono fisico. Ho fatto il mio dottorato presso il CERN di Ginevra all'esperimento LHCB dove mi occupavo dei sistemi di monitoraggio e controllo della farma, di calcolo degli esperimenti. Poi ho lavorato per dieci anni al Tier 1 di Bologna dove ho sfruttato ampiamente la rete del GAR in quegli anni per poi spostarmi in E4 dove ho iniziato a occuparmi della parte più HPC ed oggi della gestione dei progetti di ricerca italiani ed europei in cui l'azienda è coinvolta. Oggi vi introdurrò brevemente quello che fa E4 una non tanto breve introduzione a RISC-5 e poi alcuni progetti che coinvolgono RISC-5 cioè Montecimone che è il nome con cui è stato chiamato il primo cluster ad alte prestazioni basato su RISC-5 il primo cluster al mondo che è stato realizzato con questa tecnologia e alcuni progetti in corso che sono il progetto Future e il progetto RISC-5 for Astro e infine farò vedere quelle che sono le attività di disseminazione che portiamo avanti su queste tematiche. L'azienda nasce 22 anni fa è un'azienda italiana con base a Reggio Emilia nasce come system integrator di server e soluzioni HPC oggi si è evoluta oltre a soluzioni HPC quindi dalla parte infrastrutturale alla parte middleware che serve per far funzionare questi strumenti estremamente complessi si occupa anche di soluzioni nel mercato dell'artificial intelligence e del quantum computing. noi lavoriamo e abbiamo come partner tantissime, quasi tutte le università italiane i centri di ricerca tra cui Enea, NFN, INAF, CNR e le principali aziende che operano nei contesti tecnologici per citare alcuni nomi Pirelli, Taci, chiesi farmaceutici o la Dompe farmaceutica famosa per l'occhi quando avete mal di testa in genere tutti quanti ne abusano noi cerchiamo di essere nei confronti dei nostri partner quello che è un'antenna tecnologica cioè cerchiamo di capire quelle che sono le innovazioni tecnologiche che saranno presenti diciamo nel prossimo futuro cerchiamo di raccoglierle e di portarle nel nostro centro di calcolo per poterle fare provare ai nostri partner o ai nostri clienti e poter valutare assieme le prestazioni perché nel mondo del calcolo HPC cioè nel calcolo ad altre prestazioni questo fa la differenza avere due metriche di cui oggi abbiamo parlato che sono il tempo time to solution quanto tempo impiego ad arrivare alla soluzione del mio problema è fondamentale è una grande discriminante nel risolvere i problemi ma l'altra grande discriminante è l'energy to solution cioè quanto mi consumo arrivare in fondo a quel calcolo quanto vado a consumare e come posso limare i consumi cioè queste sono le stesse domande che ci siamo posti fino ad oggi fino ad ora nelle varie presentazioni e molto spesso cerchiamo tramite i progetti di ricerca europei di trovare delle limature delle limature di qualche punto percentuale che però si traducono su grandi numeri in potenze che diventano consistenti questo è un attestato che ci è stato rilasciato dai NFN e dal CERN per la scoperta del busone di X su macchine realizzate da E4 integrate e fornite agli NFN al TR1 e ai TR2 italiani per poter fare la scoperta del busone di X diciamo una delle scoperte fondamentali della fisica delle particelle di questi ultimi anni forse degli ultimi 60 anni e queste sono le nostre facility interne sulla sinistra potete vedere il laboratorio dove vengono integrati assemblati server, sistemi di storage server di tipo eterogeneo noi siamo hardware agnostici possiamo fornire tecnologie con piattaforme Intel AMD ARM Power e oggi anche RIS5 RIS5 che però nel settore HPC è ancora un prototipo non è un sistema pronto per la produzione a differenza invece di altri mercati quali i settori embedded dove ha già trovato una nicchia molto fertile ha conquistato quote significative di mercato e per automotive altri sistemi industriali diciamo già viene utilizzato in maniera ampia al centro vedete quella che è la sala di burn-in ci sono dei rack mobili infatti si intravedono vediamo se li riesco ad indicare qui in basso delle ruote su cui vengono montati questi server appena realizzati vengono messi in questa sala a una temperatura costante dopodiché vengono collegati lo switch di rete vengono accesi e parte l'installazione automatica per gli amanti dei sistemi di boot su varie tecnologie a questo punto la macchina si installa si autoconfigura e parte un ciclo di test che può avere una durata variabile ma non inferiore alle 72 ore dove vengono testati e stressati i vari componenti che la vanno a comporre i vari componenti sono le memorie i dischi le CPU la parte di rete e anche gli acceleratori perché nel calcolo HPC la parte oggi dominante del calcolo viene fatta tramite acceleratori i più famosi sono gli acceleratori le GPU di NVIDIA non sono gli unici presenti sul mercato e di tutti questi sapete qual è l'elemento che consuma di più dal punto di vista energetico il raffreddamento è uno e l'altro è la GPU abbiamo delle GPU che attualmente consumano le H100 700 Watt una le nuove Blackwell che sono già ordinabili da NVIDIA abbiamo 1200 Watt la Blackwell 200 che sono due schede da 1200 sono 2400 una GPU pensate che ci sono macchine che ne contengono fino a 8 per cui con una fase non ci stiamo più dentro una monofase servono almeno due fasi di corrente per poter accendere una di queste macchine e infine abbiamo il nostro laboratorio con 6 REC utilizzati per fare R&D 6 REC di macchine di tutti i tipi inclusi prototipi dove facciamo anche prototipi per cercare di ottimizzare la parte di raffreddamento perché si è parlato oggi dell'utilizzo dell'acqua ma l'acqua è uno scambiatore di calore nei sistemi a liquido quello che si usa è un olio che viene fatto girare e poi è scambiato diciamo con dei piatti che vanno a contatto con le superfici calde e poi quest'olio porta via calore e viene scambiato con o aria o acqua come scambiatore secondario però se noi facciamo girare soltanto un liquido riusciamo a togliere del calore ma non è la massima quantità di calore che riusciamo a togliere la massima quantità di calore che riusciamo a togliere è quando abbiamo un passaggio di fase da liquido a grassoso che fisicamente è il calore latente di ebollizione quindi con l'aiuto di Enea CNR e un'altra azienda italiana che si chiama Inquattro abbiamo diciamo utilizzato questa tecnologia che Enea usa ampiamente per raffreddare i reattori nucleari che è lo scambiatore di calore a due fasi e l'abbiamo portata sui server quindi abbiamo questo prototipo questo progetto chiamato Texta Rossa che è appena concluso nel quale avevamo l'ebollizione del liquido di raffreddamento quando passava sulle CPU sugli acceleratori e nei tubi di ritorno dell'acqua si vedevano le bollicine che passavano che salivano diciamo e tornavano a raffreddarsi nello scambiatore di calore secondario quindi diciamo cerchiamo di fare ricerca in quello che è il settore del green computing perché è lì dove si può limare qualcosa in termini di potenza e questo laboratorio è accedibile ai nostri partner università enti nei contesti dei progetti in cui collaboriamo proprio per fare questo tipo di studi oppure per fare un altro aspetto che è estremamente legato a quello che dicevamo prima che è il co-design tra software e hardware cioè andare a scrivere oggi codice che dovrà girare sui super calcolatori di nuova generazione gli exascaler vengono chiamati richiede un ripensamento del codice e un codice che va scritto in funzione dell'hardware in questo modo riesco ad ottimizzare e ottenere quel guadagno energetico di cui si parlava prima quindi questa parte che viene chiamata co-design oggi diventa predominante se vogliamo avere un risparmio energetico ci torniamo tra poco sul co-design quindi queste sono le nostre tre facility e ricordo che il nostro laboratorio oggi è limitato a 100 kilowatt quindi adesso abbiamo questo limite di crescita ma ci stiamo spostando in una nuova sede e visto che l'azienda si trova a Reggio Emilia ci spostiamo nella zona delle ceramiche e dal prossimo anno partiremo con una potenza di 2 megawatt quindi abbiamo possibilità di crescere il numero di REC e di macchine da poter offrire ai nostri partner per fare test questo è un esempio di soluzione per l'Istituto Italiano di Tecnologia qua vedete diversi REC tutti questi REC sono forniti diciamo in questo caso qui era un sistema d'aria con GPU e questa macchina viene utilizzata appunto per fare intelligenza artificiale questa è la macchina Franklin che si trova a Genova all'Istituto Italiano di Tecnologia ed è un esempio queste sono macchine di produzione basate sulla classica tecnologia X86 che oggi è dominante in questo mercato ora che ho presentato l'azienda facciamo una veloce perché il tempo sta scorrendo panoramica di RIS5 RIS5 è uno standard aperto con un'ISA aperta e che non prevede delle licenze questo fino a qualche tempo fa qualcuno poteva dire e beh ma fino a qualche giorno fa perché il 23 cioè questa settimana a Qualcomm è stata ritirata la licenza di produrre device ARM quindi il problema inizia a diventare un problema reale il fatto di non avere una licenza da pagare o cui sottostare perché dal punto di vista legale il proprietario me la può rimuovere in ogni momento e io non posso più utilizzare quella tecnologia quindi questo è un buon motivo per non avere delle dipendenze per non dipendere quindi da altri stati e avere una sovranità digitale che potrebbe tornare quindi dagli Stati Uniti all'Europa in questo caso perché tutte queste tecnologie sono americane Intel AMD ARM e questo è un aspetto molto importante quindi la crescita di RIS5 è una crescita open che è gestita capitanata diciamo dall'associazione RIS5 International con sede in California allora RIS5 nasce negli anni 80 in particolare a Berkeley sotto la direzione del professor David Patterson poi nel 2010 si arriva alla quinta versione del RIS5 da cui il nome RIS5 e da qui fino al 2015 al 2013 si riesce a mettere il primo supporto Linux e poi oggi la fondazione è stata rinominata RIS5 International e si occupa delle estensioni e degli sviluppi diciamo di tutte quelle che sono le ISA da poter introdurre sui future generazioni di chip un aspetto importante è che dal dicembre 2021 è stato realizzato come vi accennavo prima il primo cluster HPC al mondo ed è stato realizzato in Italia in una collaborazione tra Cineca e 4 università di Bologna e poi lo vedremo a livello mondo gli Stati Uniti hanno diverse università che si stanno occupando diciamo degli aspetti base della ricerca su RIS5 la NASA ha un programma interno di utilizzare RIS5 per le future missioni spaziali come calcolatore di bordo delle macchine che andranno nello spazio e tutte queste aziende incluso NVIDIA utilizzano o producono RIS5 NVIDIA ad esempio lo utilizza come controllore delle GPU quindi all'interno di una GPU NVIDIA ci sono diversi controllori RIS5 magari uno non ci pensa pensa che NVIDIA è o dipendente da ARM o dipendente dalle GPU però no contiene al suo interno diversi chip di tipo RIS5 Sci-Fi è un'azienda che produce CPU Ventana e Tenstorrent fanno degli acceleratori da questo punto di vista gli Stati Uniti sono molto avanti sulla produzione di acceleratori basati su questa tecnologia e l'Europa cosa sta facendo? Beh l'Europa ha diversi progetti in atto in particolare il progetto EPI è stato l'antisignano European Processor Initiative per la sovranità digitale dell'Europa in questo progetto si è fatto il design e poi la realizzazione del primo processore progettato in Europa e del primo acceleratore progettato in Europa il processore basato su tecnologia ARM ma l'acceleratore è un acceleratore RIS-5 disegnato dal Barcellona Supercomputing Center e il primo prototipo di questa macchina qui con un acceleratore RIS-5 è presente si trova a Reggio Emilia e l'abbiamo anche già rispedito a Barcellona alcuni alcuni campioni quindi esiste ed è funzionante la parte di acceleratore Tristano e Isolde sono altri progetti che vogliono utilizzare RIS-5 su delle applicazioni di uso industriale sia di tipo spaziale che automotive che domotica in OpenCube lo si vuole utilizzare in ambito di virtualizzazione cloud Future e RIS-5 sono progetti che sono stati finanziati dal centro nazionale di supercalcolo e ne parlerò in seguito poi abbiamo diverse aziende sia europee che italiane ed italiane abbiamo Accelera e D4 Accelera si occupa di fare delle board per fare la parte di language model e 4 invece la parte di integrazione Cperl fa i chip in particolare le CPU e gli altri disegnano le parti embedded di RIS-5 la Cina è probabilmente ad oggi il miglior produttore di CPU di questa tipologia in particolare la Sofgo ha superato diciamo di gran lunga tutti gli altri produttori inclusi gli americani ha diverse iniziative a livello scolastico e in particolare dei progetti nazionali in cui vogliono insegnare a progettare circuiti dei chip agli studenti delle scuole superiori quindi hanno un'ambizione di questo tipo in Cina notizia di questa settimana alla RIS-5 Summit di San Francisco da cui sono tornato l'altro ieri però questo non è il paese che sta investendo di più e non sono neanche gli Stati Uniti la sorpresa è il Brasile il Brasile è al centro di uno sviluppo strategico e tecnologico che mira ad avere la sua sovranità tecnologica sia sui chip che avere le proprie industrie che fanno silicio e sta investendo oltre 60 billion per la progettazione di acceleratori ed entrare nella produzione di questi chip le università e i brasiliani hanno già integrato curriculum relativi a RIS-5 quindi il Brasile è la potenza che sta investendo maggiormente su questa tecnologia ed è veramente impressionante vogliono fare un supercalcolatore da top 500 basato sui RIS-5 entro i prossimi 4-5 anni che è estremamente ambizioso visto che oggi la maturità tecnologica non è ancora quella di produzione quindi si stanno muovendo in maniera molto aggressiva da questo punto di vista benefici abbiamo parlato intanto che abbiamo varie versioni 32, 64 fino a 128 bit possiamo avere delle istruzioni specifiche per specifici casi d'uso ed è questo che ci fa entrare in quello che può essere un deep co-design cioè se già di per sé l'architettura è un'architettura che consuma poco io però posso fare un design esclusivo per il mio caso d'uso e andare a scrivere il codice su quella architettura che ha quelle specifiche istruzioni in questo modo vado a minimizzare l'utilizzo della CPU o dell'acceleratore per fare i miei calcoli efficientando al massimo il rendimento energetico di questo dispositivo come vi dicevo abbiamo diverse aziende che vanno da Sofon Sci-Fi Starfire per le CPU altri per i micocontrollori di tipo commerciale per gli acceleratori abbiamo Ventana Tenstorrent Esperanto Rivos Americani Accelera che è una multinazionale con una sede anche in Italia un amministratore delegato italiano aziende come Seagate Western Digital Nvidia invece utilizzano come micocontrollori per i loro prodotti RISC-5 e molti progetti sono sia per acceleratori che per micocontrollori ora se da un lato l'architettura RISC è entrata nel mercato embedded la sfida è renderlo appetibile per il mercato HPC nel mercato HPC è dominato il 99% da X86 in particolare Intel e AMD un meno di un 1% da ARM con l'introduzione che è stata fatta da Nvidia della macchina Gray Sooper e del Super Chip cioè un unico chip che condivide sia la CPU che la GPU e la GPU può utilizzare tutta la memoria del sistema da questo punto di vista la macchina Gray Sooper ha avuto un discreto successo proprio per la possibilità di fare training su tanta memoria disponibile all'interno dello stesso sistema e qui entriamo nei sistemi HPC entriamo nei sistemi HPC della top 500 e poi cerchiamo di fare un riscontro con quello che si può fare oggi con RISC5 quello che vedete è Leonardo si trova al tecnopolo di Bologna e di proprietà del Cineca quando è entrato nella top 500 lo scorso anno era al quarto posto e aveva una potenza di 240 petaflop un costo complessivo di 240 milioni e una tecnologia chiamata Bullsequana ma è una tecnologia open nel senso che è un formato di cui discutevamo prima è un formato a 21 pollici senza trasformatori all'interno dei singoli server ma con delle bus bar c'è un unico trasformatore che porta la corrente a tutto l'armadio dei server in questo modo non vado ad avere singoli trasformatori con singole efficienze ma ne ho un unico con un'efficienza maggiore e raffreddamento ovviamente a liquido è un liquido monofase cioè non c'è cambio passaggio di stato in questo caso abbiamo schede di rete in Finiband con una topologia di tipo Dragonfly che è estremamente complessa e quando ci sono delle topologie così complesse con un numero così grande di nodi l'effetto che fisiologicamente si va a pagare è che la messa in funzione di una macchina così grande richiede tempi estremamente lunghi per andare a debagare tutta la rete infatti hanno impiegato diversi mesi ad andare online e ad entrare nella top 500 quanto consuma una macchina di questo tipo per entrare nella top 500 la RAN è un dato pubblico lo trovate la top 500 è una lista delle 500 macchine più potenti al mondo ha consumato circa 7 megawatt il prossimo anno è previsto l'upgrade e quindi aumenterà ancora questa potenza dovrebbe raddoppiare però la cosa interessante è che già oggi nel stabilimento a fianco a Leonardo abbiamo quest'altra macchina sempre con fibre questa autostrada è un groviglio di fibre ottiche in Finiband e qua abbiamo ECMWF che è il centro meteoclimatico per le previsioni a medio e lungo termine europee che è stato spostato dopo la Brexit da Redding a Bologna nella cosiddetta Data Valley o Tecnopolo di Bologna e qui abbiamo una potenza analoga non usano CPU ma hanno un numero maggiore di nodi di calcolo e quindi un numero maggiore di core quindi a discapito delle GPU la potenza rimane comunque alta perché hanno un numero maggiore di macchine e l'ordine di grandezza è sempre quello di 7-8 megawatt di contro abbiamo realizzato nel 2021 il primo cluster basato su sistemi RIS-V basato in collaborazione tra E4 Bologna e Cineca il luogo dove si trova è l'università di Bologna e qui vedete il Tecnopolo il Nettuno di Bologna sempre dove c'è il Tecnopolo c'è anche si sposterà il tier 1 degli NFN e in basso vedete quello che è il cluster era un cluster formato da 4 chassis ciascuno contenente due nodi quindi 8 nodi di calcolo qua c'è la stessa figura che vedete che avete visto prima e l'idea era quella di riuscire a dimostrare che era possibile fare un sistema HPC con tutto lo stack software necessario per farlo funzionare perfettamente funzionante non si parlava quindi di avere delle performance da poterlo mettere in competizione con le altre macchine era fuori luogo nel 2021 ed è fuori luogo ancora oggi non è possibile fare questa comparazione quello che si poteva fare era verificare se funzionava e se funzionava bene per stack software si intende tutto quel middleware necessario per farlo funzionare ad esempio devo riconoscere gli utenti in maniera centralizzata quindi dovrò utilizzare quello che è sotto Linux è lo standard LED app per la gestione degli utenti questi dovranno poter sottomettere i job in quegli otto nodi di calcolo per cui avrà un gestore di code e normalmente in ambito scientifico il gestore di code cioè la sottomissione dei job viene fatta tramite uno strumento che si chiama slurm poi posso avere un file system condiviso almeno proprio il minimo sindacale è quello di avere un file system condiviso via rete e quindi un file system di tipo NFS che venisse montato da tutti questi nodi e diciamo le librerie qualche libreria matematica per fare due conti servirà un po' di gestore di librerie SPAC ad esempio che viene ampiamente utilizzato per poter sottomettere le installazioni dei vari pacchetti quello che abbiamo verificato è che tutte queste software diciamo necessarie al funzionamento sono stati installati ed eseguiti correttamente funzionano abbiamo anche fatto dei test abbiamo fatto il test HPL abbiamo fatto il test stream per vedere la banda passante dalla memoria abbiamo fatto anche un test con un applicativo che è Quantum Express perché tutte le persone che lavorano al cine che appena hanno una macchina la prima cosa che fanno è che ci installano sopra Quantum Express e vedono se gira e quindi l'hanno fatto anche qui ma è girato quindi sono stati capaci di farla funzionare anche qui sopra la macchina è in produzione da maggio 2021 viene utilizzata all'università di Bologna è stata usata anche per corsi di master e due summer school con più di 100 studenti all'anno attualmente stiamo facendo l'aggiornamento con le nuove CPU di Sovgo entriamo un pochino più nel dettaglio tecnico di queste macchine ops ma qua mancano dei pezzi diciamo che c'erano le caratteristiche tecniche le caratteristiche tecniche erano CPU di tipo sci-fi con 4 core per socket single socket avevamo 16 giga di memoria ram 1 tera di memoria di massa avevamo applicato anche oltre alla scheda ethernet di collegamento avevamo messo anche una scheda infiniband e avevamo collegato i nodi punto a punto per testarne il funzionamento quello che rimane di tutto questo è lo schema che potete vedere qui gli utenti si logano su questa macchina dall'esterno tramite protocollo ssa utilizzando anche una vpn qui c'è un nodo di controllo che serve per la gestione diciamo di tutti quegli strumenti di cui abbiamo parlato prima e qui abbiamo due reti in blu una rete ethernet in giallo la rete infiniband qui passava attraverso uno switch quindi tutte le parti software hanno funzionato correttamente l'unico problema che abbiamo avuto è stato con il driver infiniband non siamo stati in grado di farlo funzionare e questo è stato il limite di questa macchina infiniband di fatto è una rete a bassa latenza necessaria quando fai calcoli MPI e devi far parlare la memoria di due o più nodi quindi di fatto abbiamo dovuto utilizzare ethernet in sostituzione di infiniband nei nostri test qui appunto indichiamo quello che è il nostro problema mentre l'Ibping che è un test minimale riusciva l'utilizzo del protocollo RDMA falliva da questo punto di vista qui abbiamo delle metriche delle misure di efficienza che sono percentuali abbiamo la macchina il processore Sovgo 2042 confrontato col sci-fi di Monticimone con un'altra macchina RISC-V che era un'arma V8 Marvel e con Marconi 100 sempre del Cineca che però era un'architettura power quindi avevamo confronto tutte le architetture RISC disponibili di fatto quello che si vede è che le efficienze sono relativamente basse sia per HPL che per Stream non mi meraviglia questa cosa il successo è che siamo riusciti a far funzionare quasi tutto d'eccezione di InfiniBand che ancora a livello mondiale è ancora un problema aperto InfiniBand non funziona sotto RISC-V per questo ci stiamo muovendo e da qui il nome Montecimone Monte Italiano che si trova nell'Appennino Emiliano-Romagnolo diciamo che era il periodo dove tutti quanti davano un nome di una città italiana alle CPU in particolare aveva fatto MD Genova Roma se vi ricordate Milano in quel periodo e Intel aveva iniziato a dire che faceva degli acceleratori e li chiamava con i nomi dei ponti italiani c'era il ponte di Rialto il ponte di Firenze eccetera allora ho detto vabbè noi lo chiamiamo Montecimone siamo italiani e anche noi vogliamo avere la nostra visibilità questa è la macchina è la CPU che stiamo testando diciamo che è la Sovgo 2042 non è questa la macchina la macchina è più simile a quella a destra anche se questo è un mock-up Future è il successore diciamo di Montecimone da questo punto di vista l'obiettivo è quindi è quello di esplorare dal punto di vista del mercato cos'è disponibile utilizzare oltre che la parte di host su RIS5 anche acceleratori basati su RIS5 quindi il progetto che è finanziato da ICSC che ci vede coinvolti assieme all'Università di Bologna è quella di tentare di fare una nuova macchina con nuovi processori nuovi acceleratori tutti basati su RIS5 e cercare stavolta di far funzionare anche la parte infini raggiungendo quello che è un TRL pari a 9 che è un TRL di produzione quindi sarebbe un grande obiettivo riuscire a raggiungere questo questo goal quindi avere macchine pronte per la produzione a quel punto al netto delle prestazioni se i consumi sono significatamente inferiori siccome la metrica fondamentale è il prodotto time to solution per energy to solution ed è questa che va minimizzata nel suo complesso potrebbe essere comunque significativo questa è la macchina che abbiamo in E4 in realtà è una delle macchine che abbiamo in E4 per fare questa sperimentazione è una macchina dual socket in fondo ci sono anche gli slot PCI qui davanti potete vedere vari slot per i dischi questi sono i due i due CPU qua ci sono delle ventole e abbiamo già ordinato acceleratori da aziende americane in particolare in questo momento gli acceleratori Wormall o N300 prodotti da Tenstorrent che sono probabilmente l'azienda americana più avanti nello sviluppo di queste board e stiamo per iniziare a fare i primi test diciamo su queste CPU con HPL quantum espresso stream matrici sparse e relativi consumi di potenza secondo progetto e cercherò di essere rapidissimo è dedicato all'astronomia in particolare in collaborazione con la SIS stiamo facendo questo progetto perché intanto nel 2015 si sono scoperte le onde gravitazionali la SIS da questo punto di vista ha un know-how di esperienza su questi codici di analisi di onde gravitazionali e di sistemi a molti corpi la prossima generazione di strumenti produrrà una quantità enorme di dati che dovranno essere analizzati in particolare l'Italia è uno dei paesi che potrebbe in particolare nel nord della Sardegna potrebbe ospitare questo nuovo interferometro chiamato Einstein Telescope e quindi bisogna iniziare a fare uno studio di porting di codici su infrastrutture a basso consumo energetico quindi abbiamo iniziato appunto insieme alla SIS a fare questo porting sulle nostre infrastrutture RIS-5 e sugli acceleratori di cui abbiamo disponibilità in laboratorio qui c'era un'animazione che faceva vedere la produzione delle onde gravitazionali in pratica sono prodotte diciamo da quando abbiamo oggetti estremamente massicci quali due stelle di neutroni o una coppia di buchi neri o una coppia di stelle di neutroni e buchi neri che ruotano attorno al centro di massa emettono radiazioni sotto forma di onde gravitazionali perdono energia e nel tempo tenderanno sempre di più ad avvicinarsi fino a fondersi quindi tutti questi processi fisici possono essere detectati da questo rivelatore che è l'Einstein Telescope oppure altri di nuova generazione quale è l'ISA che è uno strumento equivalente che si trova nello spazio fatto da tre satelliti che formano un triangolo e ogni lato del triangolo è un braccio dell'interferometro direi che qui non è possibile vedere le altre animazioni che erano estremamente carine ma ve le ho già raccontate quelle che erano le sorgenti qui vedete un interferometro in basso i due bracci dell'interferometro e qua la sorgente due buchi neri che ruotano attorno al centro di massa inviando verso la terra queste onde che sono appunto le nostre onde gravitazionali e qui abbiamo una lista di quelli che sono gli esperimenti attualmente presenti a terra e questi che verranno costruiti nei prossimi anni allo stesso modo nello spazio possiamo avere questo interferometro è un progetto dell'ESA dove abbiamo tre bracci a una distanza considerevole di 2,5 milioni di chilometri dove sarà ancora più facile vista la lunghezza del braccio riuscire a vedere scostamenti sulla distanza quindi potremmo avere onde gravitazionali sono necessari modelli estremamente curati dell'evoluzione dei sistemi che portano queste fonti di onde gravitazionali da qui l'importanza dei codici a molti corpi ma hanno un limite che nelle attuali macchine si riesce ad arrivare a questo numero di corpi da simulare e stiamo parlando delle macchine petascale tipo Leonardo aumentare questo numero vuol dire aumentare anche la potenza necessaria quindi deve aumentare di megawatt o si trova una nuova strada per fare queste simulazioni o dovremo per forza consumare più energia o cercare di limare quella che c'è o dal punto di vista della parte termica di eliminare diciamo il calore da questi sistemi o da utilizzare delle architetture che consumano meno fatemi fare una piccola parentesi perché ci potrebbe essere nei prossimi anni una grande rivoluzione dal punto di vista delle simulazioni data appunto dal quantum computing ad oggi abbiamo soltanto dei prototipi ancora sperimentali ma qualora la tecnologia riuscisse a scalare risolvere questo problema con un quantum computing potrebbe ridurre sia i tempi di simulazione e un quantum computing ha un consumo relativamente molto più basso rispetto a quello dei sistemi HPC tradizionali per intenderci un sistema un quantum computing oggi disponibile massimo consuma 20 kilowatt quindi l'idea è quella di avere architetture a bassa potenza con una densità computazionale inferiore per unità di REC e i grandi esperimenti scientifici hanno però tanti codici già esistenti che devono essere portati verso queste nuove architetture e questo è il fattore limitante cioè il porting di tutto quello che già esiste verso le architetture RISC-V in questo obiettivo diciamo in questo progetto cerchiamo di iniziare a fare il porting di alcuni di questi codici e l'idea appunto di utilizzare questa macchina per fare e dimostrare la verità scientifica dei codici quando eseguite su RISC-V vedere che tornino esattamente gli stessi valori che ci tornano su x86 altrimenti avremo un problema ultimo dissemination attività di dissemination abbiamo fornito il cluster Montecimone per la student cluster competition del 2022 all'università della Catalunia la macchina si trova all'università di Bologna e qui c'è il professor Andrea Bartolini con due studenti che stanno facendo qualcosa su Montecimone organizziamo tutti gli anni dal 2023 il workshop su RISC-V come pietra angolare per l'HPC nel 2023 eravamo a Tolosa nel 24 a gennaio a Monaco e il prossimo anno a Barcellona quest'anno ancora non è confermato ci dovrebbe essere una industrial track a PDP a Torino dedicata alle tecnologie emergenti nell'HPC da RISC-V al quantum computing e con questo ho esaurito grazie grazie veramente grazie veramente al dottor Gregori illuminante una presentazione veramente illuminante purtroppo non abbiamo domande in questo momento bene e siamo quindi abbiamo visto questa nuova frontiera che soprattutto ci fa vedere un aspetto importante che è l'hardware cosa che non è stata che è stata trattata in maniera dettagliata in questo intervento ma soprattutto perché è un connubio tra nuova tecnologia nuova potenza impatto forte verso il consumo energetico e soprattutto utilizzando uno standard libero aperto quindi è qualcosa di veramente veramente importante che è